Noi dobbiamo raggiungere quell'isoletta laggiù Ok, dobbiamo piottare ancora un po' Fai scendere Ti pare che muoro dai Patris? Muoro? Tu muoio dai Patris Oh, Patris di merda Ma che cazzo è? Ma? Ma? Bellissimo Dammi subito la tua spada What the fuck? Ma perriato questo Ma questo è quello di inizio gioco Dito sanguinolento Per provare a invadere il mondo di un altro Se l'invasione riesce avrà inizio di una sessione multiple e verrà disegnato come invasore Se è dall'ospite, ok E questo mi sta invitando a invadere praticamente Ma è fortissimo Ma toglie proprio una sbraga Cazzo non ha recuperato le rune Ok, ok Duramose A posto Non droppa niente Ah Ok Chiesa della rosa Lama della fiamma sanguinaria E' una cosa di fede Ovviamente Infonde di emo fiamma l'armamento nella mano destra Olè Fede Dio cane Quartiere del tempio Accetta fan di ghiaccio Mazz Undici fazza Sedici testezza Causa assideramento Di qua Dobbiamo circunnavigare L'accademia Ma Oh 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 Eh ovviamente c'è il drago a difendere la chiave che dobbiamo prendere Eeeh Bel draghetto Che gli raccontamo Non c'è manco una grazia Mi sembra assurdo Che non ci sia neanche un Una grazia qui In tutti sti posti No c'è addirittura una galena Qui Galena eterna del culo Ma quanta roba c'è da fa' qua Vamo se prima questo Tony grazie dei 42 Finita Cavaliere Cariano Bolsa Oh Gesù mio Eccola l'erruggito del troll Mi sa è questa Porca troia No 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 One shot così no Il one shot così no Dai il one hit secco No Porco dio Mi è sbagliato Il one hit in un gioco Ti Heheheese Ha Hehehe he registered Heheheh You 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 Mori E vaffanculo Falange dello spadone Era ovvio che ti traspasse la sua magia Pugnaletto secondo me è ancora più forte Questo cuore è merda Alla fine sto pg è malo Sto pg è tutto Non c'ho problemi E' il dio della guewe E' tutto e niente Ma chi è? Ma è un bait Crepa La terroia catfish di merda Ma quanti sono? Ok qua è finita la mappa Se casco moro E' weekend Mortacci su Oh ha droppato però Oh una runa aurea 6 Buona Sono tipo 3k rune Io mi sto andando in una zona in cui non devo andare Io sto cercando una grazia Ti pare che non c'è una grazia Cos'è il lago delle aragoste questo? Non voglio fare il pugnale più 3 1 perché voglio cambiare armi Oddio non voglio giocare sempre la stessa Combo What? Guarda tu mi ha fatto responare Sì ma la ragosta è broken Ti spruzza il fango tipo da cross the map C'è un massacrato Pieno di patris Proprio che qua non mi sembra che ci sia altro Eccola la grazia Ho detto che una c'era Stava per forza Era impossibile che c'era Ma l'incantesimo nuovo lo possiamo usare? No Possiamo mettere le esplosioni di cristallo 29 questo Ah infatti vedi Mi siamo davanti al drago Ok ok Favamo a far sto drago Vediamo che succede Ah la magia è completamente inutile Contro di lui È di scinti in pietra Devo subito andare a mettere il coltello Ah torna a recuperare le rune poi Aspetta Aspetta Rimettiamo Irreduvia Poi andiamo a recuperare le rune Che merò del culo Lasciarle a quelle ragoste di merda Eh ma mo non ci darà mai 5k Al tetà 4 Ma sempre se non ci ricrepo mo eh Ma dove sono? Ah proprio in mezzo a tutti Oh non le abbiamo a grade Brava Ma forse un livello solo potremmo fa Nuovo livello Un punto intelligenza Sempre Perfetto Anzi Fiamo un'altra roba Mettiamoci una pozza di mana Ma è stato super tank Vediamo che sfiammata fa Oh Oh Sembra che io poi Anna Stelti Mi hanno perché parlo Ah me l'ho preso una volta Perché c'è il ramuscello davanti E l'ha tankato tutto Madonna Madonna Vole comunque Questo boss è riciclato Ma mi sciotta Oh non mi sciotta La mia l'ho preso una volta E' Non vedo un cazzo Impossibile vedere L'effetto di questa fiammata è una delle cose più incredibili che abbiamo mai visto in un gioco, penso Stai fermo No 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 Non penso serva la resistenza alla magia, mi ha guanittato comunque What Ma non è fattibile al momento, cioè Se un boss ti guanitta con una qualsiasi delle sue spelle vuol dire che c'è un problema Ma non lo devo battere Bastava raccogliere il loot dietro, quindi non lo devi battere Magari è uno di quelli super sbroccati, fatto apposta, che ti dice Guarda, non lo puoi ammazzare a moda, pindercula Oh, sta zona è in Toriano, se non c'è roba qua di intelligenza è finita Guarda Qui c'è grande ascensore che non funziona? No, funziona Per i grazie dei venti Visto una pubblicità, che paura Accademia di Raya Lucaria Arpi grazie dei nove Ma questo è Bloodborne Palese Bloodborne questa zona Quello del DLC Oh no C'ho l'impressione che qui forse il pugnale è meglio Dello stocco Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Noooooooooooo Ma che cazzo è? Fiu 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 fiu! Da Witcher gameplay No no è Brogan sta roba ma che danno fa? se vado di fa fiufio, fai fiufio ok, vanno comunque fiufio vanno comunque fiufio tocca a noi gli ammazzare il bucconi madonna, ma che spell tira questo ma è il dio della quewe fiufio 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 fi Fiu 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 Che mosti del cazzo dio cari Beh, abbiamo fatto un passo avanti almeno Buono Una bella runaurea Ma che cazzo ne so Ah non è una porta Ok Abbiamo sbloccato almeno il falo dentro Certo che siamo veramente poco fashion souls Posso dirlo Ma penso che tutti abbiano sta armatura su sto gioco Cioè questa con la pelliccia ce l'avrà chiunque Penso non ho visto una run in cui uno non c'aveva sta armatura con la pelliccia Imboscata ogni modo perché è sempre imboscata Ma quanto tanka Ma sono sicuro che ha la zona mia questa Cioè un K a un mostro Mi sembra un po' tanto Cerca oggetto Neanche l'isciotto qualcosa Se non me fosse il drago Era la prova per vedere se eri degno di stare qui o meno Ma quanti sono Ah ti ciucciano il mana questi Ti grabbano Ti fanno mezza vita E ti ciucciano tutto il mana Ah son morto Mamma da uno Sì ma che chiavi Ma quanto tankano Ma non sono reali sti cosi Troppassero mille anime poi Dando un cazzo Oh Buono Necchè me dai Oh buona Ma c'hanno sì C'hanno tipo mille di vita Ma che cazzo è Ma sono E' tanto mille di vita Sì Però attenzione dietro Sì vabbè Ma è pieno Ma è pieno Però con le magie Mi hanno ciucciato tutto il mana No ma il danno lo piano Comunque Che sono veramente Troppo tank e basta No ma è una zona Ah sono spawnati pure dietro Di nuovo Nice Zampa di gallina Ma secondo me vanno solo mezzi Che è più sciato Questo quanto c'ha di vita Millequattrocento Cos'è Ma non ci saliva Poi dice il gioco E puoi evocare E chi evo Con sta ceppa De minchia Senti tira dritto Via da sti coglioni Va Grasso magico E il cavallo Non lo puoi usare Cazzo è sta roba Pure arcane Mi stompa Ah è un Un ascensore Ok Dao giù Via avanti Nemico forte Perfetto Non ci si va Dove ci porta Questo Poi ci sono dei nabi Che scavano Ci starà qui La grazia sicura Ecco Infatti Nuovo livello Manco per il cazzo Mazzà che zona Dio porco Ma sta a giocare Andiamo a vedere Questo nemico forte Chi è Oggetto Buono Vedi I nemici nabi E i liti di tritti I naboni Quelli non naboni No C'era un cazzo Questa Chiamate Guardie C'è qualcosa Qua dentro Dardi di cristallo Eh È strano È più particolare Le do È più particolare Ma se prendo la strada All'indietro Muoio ovviamente Perché quello fa così E crepo Come cazzo scendo Scusa Ma un posto scende Cioè Per scende Devo Partire dall'altro Falò Perché qua Domani sono salito Un posto più scende È una ruota Fazzò Eh Ho capito Che è una ruota Che torna indietro Ma te muori Spiacicato Rincoglionito Oh cazzo Non è che questo Mi perria Prendi una piattaforma E fai il giro Sì ma è aperta Dio cane Se fa così Che sto Appiccicato Con la colla Perpendicolare Ma che cazzo Dici Pergamena del Conspectus Mazz Buono Ricetta Dell'artigiano Buono Che fai Studi 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 a sto Cazzo Oh porco Dio Ma mi ha dato Una testata Passaggio Segreto Sulla Libreria Dietro Oggetto Allora ci sono I muri invisibili Allora esistono No Adesso mi rifiderò Di tutti i messaggi Per terra E' finita Questo che sta Aspettacqua I guardie Mazza quante I guardie Ma sono Ma tre guardie Di queste Ma come cazzo Le tiri via Ma sono fortissime Se i libri Non hanno libri Sono passaggi Segreti Ok Sì ma che Non si staggrano Uh Bastoni di scintimpiata Dell'accademia Che cazzo sta 28 di Intelligenza Scalabini Intelligenza E Vuole 28 Di Intelligenza Ottimo Come hai detto Se salti C'è un oggetto Ma dosato Scusa Ma è vero Qua si può Assaltare Combo Giglio di trina Saltiamo su queste roccette Mamma mia Che rischio La loro Maschera Madonna Da più Intelligenza Pesate Meno Però c'ha Meno cose Però te la putte Da tre Di intelligenza Questo Se mette Subito Facciamo 23 Di intelligenza Mh Va Ma Pure Ma è Nemico Amico Ah no È il vaso Nemico Che Gevaso vivente Da violo Di carne cruda No ma è Senza Senza Viva la tazza Ma guarda questo Poi quanto Casta Ma ne è Infinito Per i broderi No ma questo E' quello Pippa Mi sa Che vi appizze Con il Ma poi Avendoce la maschera Loro Dovremmo Passare Tipo Inosservati Tipo Amighetti Loro Non lo so Mi sbatte In cazzo Vaso rituale Cazzo Di scoro C'ha Quello Attenzione Dietro Ole Oh ma C'ha la nebbia Qui Ci sta Sfarando Qualcun Altro Basta Ah lui Di stanna Gesù Cristo Che rimane un HP Gesù Sì ma sono Estremamente Potenti Per essere Dei nemici Base In teoria Sono Troppo Potenti Emo Bene Quasi Pistallico Con uno stocco Solo Ma qui che cazzo C'è una zona Nuova O il boss Aiutami Aiutami Lupo rosso Di radagon 7k rune Perz Andate Gone Perz Per sempre Ah Zst L Ho 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 Ma no, i cazzi che sto a pia Era meglio guardarlo che giocarlo Penso io quanti ne so a pia Questa situazione è tragica omica Cometa E' chiave della spada di pietra Cometa 52 di intelligenza Scaglie una grande cometa magica Ah Arriva a 52 di intelligenza Oh ma qua si può salire Perché ero che non ci sono le ossa Scusa Perché? No no C'è un altro passaggio qui Cioè perché mi hanno fatto salire qua? Devo saltare E dove devo saltare Faccio che ci stanno i messaggi forse Scusa eh Mo Non è Non è perire Ma noi Ci abbiamo proprio la bellezza Incredibile Di una lanterna Ma perché non la usiamo? Ah qui c'è un corridoietto forse Un bugo Quanto cazzo stiamo? Talismano della scuola Della scuola di pietra Oh I vasetti di merda L'agguato dei vasetti Ma arriva il vasone gigante E ci spappola Ma veramente Ma veramente il vasetto base Ci ha dato 5 pigne di fila Aumenta la potenza delle stregonerie Oddio Brogan questo con noi Tanto ritorno qui Perché non era finita la strada Quindi vorrei vedere Che cazzo c'è Scusa ma che sciorca a te Cioè solo per rientrare Nella mappa Perché ovviamente Perché cazzo è quello spawn Dovremmo farsi Dei livelli intelligenza Regà Ci servono come il pane Ma sapete che ci serve come il pane? A parte che mo' Non abbiamo più anime Quindi Bella per mi fratello Jamie Dice Senti Torniamo qui Non credo di conoscerti Mi chiamo D Mi chiamo D Mi chiamo D Tra coloro che vivono nella morte Mostra le radici mortali Mostramogliela Cazzo Cos'è? Tipo un'ammazza Ah no Le radici mortali No Cazzo sono le radici mortali Ah no Sono quelle che abbiamo Troppato Con un certo Vediamo Vieni a diventare forte come un avviso Se vedete che chi viene nella morte E cosa dice mortali Posso presentarti Gurank La belva ecclesiastica Ok Ok Sulla mappa è compasso un segno Ma? Portali teletrasporto Comunque ho troppo bisogno di ridare i punti Mi serve troppo ridare i punti Raga Guarda Guarda come ci abbiamo messo alla roba Sono completamente messi a cazzo di cane i punti Dobbiamo portare Tipo di stabilità Allora Tre punti arcano Togliere Ne so tre punti di più Quelli a destrezza Pure quelli toglierai tipo tutti Ne lasciare due punti a destrezza Quindi so alti cinque punti E so otto Due a tempra E so dieci E mentre pure Gli toglierei tipo Boh Sei sette punti Penso Quindi ci avremmo tipo Ci ho da ridare sedici punti Sedici punti Che darei Ne darei tipo cinque a vitalità Pure sei E dieci tipo Intelligenza secchi Ero venuto qui Perché voglio comprargli Questo commenta Gli slot di Cazzo in culo Ma andiamo dalla tizia A dagli la pergamena C'è una zona dove Per farmare 75k In cinque minuti No 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 vabbè Non citiamo così male Dai sti cazzi No 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 vabbè Non citiamo così male Dai sti cazzi No Mi ricordo i tempi L'accademia Che ci insegniamo Pioggia di meteore Sei stelle che seguono i nemici Ok questa è buona Scheggia cometa Di scintipiede Scagli una cometa magica Che lascia una scia Questa mi sa È quella che spara il drago Lo sai In realtà so più che lei Uccidi un drago E ti da 75k Vabbè oh Se è da ammazzandrago E poi Non è Cioè non è zona di farming È solo ammazzand Coglione Ci posso sta Devi prendere il tp Segnato in rosso Sulla mappa Prima Quindi devo andare qua Eccolo là Il tp Terza chiesa Di marica Aspelu Forse abbiamo capito Vediamo un po' Lagrima sacra Buono Ampolla di balsamo Portentoso Si trovano alla base Gli alberi madre Per si lui Può sciogliere Due lagrimi cristalli In un'ampolla Ottenendo elisir Con effetti specifici Può sciogliere Ok Ripistita metà Dei pv totali Nel balsamo Incrementa Ovviamente la forza Ovviamente la destrezza Più avanti Portale Eccolo qua Drago tumulto Di greyroll Ok Ah Penso che non Avriamo qua Se no c'è il boss E' molto cazzo Devo andare Lì c'è un semino d'oro Entro Vediamo un po' Jack grazie dei 31 Santuario ferino Ma che cazzo Quello mi suppongo Che sia un grande boss Ma un NPC Che cazzo Ti aiuta Guarda E sciottano tutti Guarda Non c'avevo dubbi Drago volante Grail Ciao bello Mi tira una fiammata E mi è sciotta E poi Albero madre minore Avatar Oh Ma quanti boss Ci stanno Qua Ah eccolo Ecco L'hanno trovato E poi ti metti In sta cunetta Wow Wow Two Thousand Years Later E' morto o no? Oddio 100k Quanti livelli posso fare? 8 livelli Buttivi via Portiamo intelligenza a 28 Precisi, quelli che ci servivano Non si poteva forse pure in alto livello In teoria 29 Via Finalmente cambiamo pure sto bastone De merda che era un vomito Sempre in quella zona ci sarebbe un altro boss Da 75 che puoi shottare Però è più un bug Devi scappare mentre ti insegue E farlo morire col veleno Ma qui c'è anche una cosa che potrebbero fare Eh ma sta qua, eccolo Madonna ma è fortissimo Ma che bello è Cavaliere notturno Sto correndo sulla collina a destra Oh, oh è vero Scoppia tutto qua Ma il minchione dov'è? Ma non m'ha seguito Ma? Deve sta andare Dio Hacking Ma non mi pare che sta a morire il fenomeno L'ha resettato Il nemico ha battuto Ah Scusa ma com'è morto? Peccato non ho usato la zampa Ah il bug è che si avvelena e muore a random Il mostro d'infarto Dai m'ho fatto tre livelli Pogaz Cos'è tutti sti punti di intelligenza? Non so una grande move Diamo un e due a vitalità De carta pesta Basta che scendi a sinistra dalla grazia Spawna la palla e devi far cadere dal dirupo Sotto al ponte Ah Mi ha rotto il cazzo Tiette quei due mila Anzi no Mi vado pure a ripiare quei due mila A me ne frega niente Ma lecca me le palle Ma voi sta cagata Ma com'è che voi dite Ah è il bugato il boss lì E poi sapete tutti sti bug voi Affedenti Grazie a tutti Grazie a tutti